Europa Verde Pesaro si è presentata ai cittadini in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. Un programma che mira l'ambiente con grande attenzione alla sfida per l'economia circolare e che ha dato il via ai tavoli tematici aperti a tutti i cittadini che ne vorranno prendere parte. Presente per l'occasione anche Sinistra Italiana, con cui condivideranno il percorso politico alle comunali sulla scia di quanto iniziato alle scorse politiche. Ci siamo organizzati con dei tavoli tematici. Abbiamo visto che ci sono tanti giovani, tanti cittadini che hanno idee per la città di Pesaro e hanno voglia di dare il proprio contributo. Questi tavoli tematici su tanti argomenti porteranno avanti proposte, idee sia per la campagna elettorale chiaramente, sia soprattutto per guidare la prossima amministrazione. Faccio degli esempi. energie rinnovabili, cavallo di battaglia storica degli ambientalisti. Noi vogliamo riconvertire ecologicamente ma anche economicamente le produzioni. Ad esempio la Valle del Foglia ha tantissimi capannoni. Su questi capannoni c'è tanto amianto. L'amianto noi sappiamo che è tossico e velenoso da origine a fibre da sbesto che vengono respirate e possono dare gravi problemi alla salute della gente. Noi vogliamo togliere questo amianto, metterci tetti fotovoltaici e l'energia prodotta viene consumata sul posto dalle produzioni locali. Questo è il primo passo per una riconversione ecologica dell'economia. Noi vogliamo mettere nella prossima amministrazione un ufficio che darà consigli ai piccoli imprenditori che vogliono riconvertire in questo senso le proprie attività e anche dare un aiuto anche dal punto di vista economico. I tavoli tematici sono tavoli che sono aperti innanzitutto agli amici di Sinistra Italiana ma anche tutti i cittadini non necessariamente iscritti che vogliono comunicare le proprie idee. Sono tavoli che sono partiti e altri stanno partendo. Alcuni di questi stanno già iniziando delle iniziative pubbliche, degli incontri pubblici per farsi notare. Ad esempio giovedì prossimo avremo un incontro sul benessere animale in cui verranno dati consigli, verranno fatte proposte e verranno anche visionate le criticità di un fenomeno che ormai fa parte di tante famiglie pesaresi, cioè la presenza di un piccolo animale da compagnia e tutte le problematiche connesse. Altri tavoli tecnici come quello per la riconversione ecologica del lavoro vedrà un incontro pubblico con esperti e soggetti interessati il 2 marzo, sempre alle 10 di mattina, alla Sala Rossa del Consiglio Comunale. A livello locale noi stiamo seguendo con molta attenzione il percorso di Europa Verde e il dibattito che stanno sviluppando. Stiamo in contatto e stiamo lavorando assieme su alcuni temi pur con percorsi diversi anche nel recente passato perché Europa Verde è all'interno della maggioranza mentre sinistra italiana no. Stiamo cercando di fare un percorso comune che su molti temi si vede già in accordo.